il guinzaglio retriever come vedete ha due fermi non è un guinzaglio a strozzo c'è questo fermo di qua che io regolo sul collo del cane un chihuahua può avere un diametro di collo uno si può avere un altro diametro e basta non lo toccate più non stringe sul collo del cane quindi non è poi c'è quest'altro fermo questo di qua che io tengo aperto appena metto sul cane lo chiudo e quindi l'anello non ha più dove andare né dentro né fuori quindi non si allarga ma non stringo il cane perché ho creato un collare come quello perché scorre bene chiaro se lo porto a destra naturalmente al contrario quello che non devo fare è questo perché adesso qui vedete che già più problemi a scorrere grazie a tutti